Salve a tutti ragazzi, sono Salvatore e in questo video voglio fare il pronostico della partita che giocherà domani l'Italia contro l'Ungheria. Io dico che l'Italia giocherà e vincerà per 2-0, le autore dei gol saranno Gnontoi e Scamacca. Ragazzi io l'ho fatto domani, giocherò alle 20.45, ho fatto questo pronostico e mi hanno tentato a dormire. Speriamo che l'azzeccherò e speriamo bene. Adesso io vi saluto e vi mando un caloroso abbraccio e speriamo che vince l'Italia. Se vi piace questo pronostico, condividete e iscrivetevi al canale. Ciao a tutti e forza Italia. Ciao a tutti e forza Italia. Ciao.